I rimborsi avvenivano tramite bonifici bancari sul conto corrente della funzionaria che le disponeva in suo favore. Ripetuti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro e per importi non troppo elevati, in modo che non fossero sospetti, hanno alleggerito di una discreta somma di denaro le casse dell'ente. Peculato è il reato per il quale la responsabile finanziaria di un comune del Basso Verbano è stata condannata dal Tribunale di Verbania a un anno e quattro mesi. News 24, la tua nuova TV locale.